Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Mantodia Italia. Nel video di oggi, che è una scheda allevamento, parliamo di una mantide bellissima e molto facile da allevare, la Creobroter gemmatus. Si tratta di una delle mantidi più conosciute in assoluto e delle più allevate in Italia. Le sue piccole dimensioni e i colori accesi la rendono un vero gioiellino. La Creobroter è originaria della Thailandia ed appartiene alla famiglia degli menopodidi, ossia delle mantidi fiore. Misura intorno ai 3-4 cm da adulta. Le ali sono rosse, ricoperte da tegmine verdi, con un disegno giallo e nero che ricorda molto un occhio. Il maschio si distingue per le ali più lunghe, che superano la punta dell'addome, e per le antenne, anch'esse più lunghe. Inoltre è un eccellente volatore. La femmina è molto meno abile nel volo, anche perché più tozza e molto più tendente a ingrassare in età adulta. Questa mantide è provvista di due occhi appuntiti, caratteristica che la rendono facilmente riconoscibile insieme alla particolare colorazione delle ali. Passiamo ora all'allevamento. L'allevamento della Creobroter non è per nulla complicato ed è consigliabile anche a un principiante. 10 cm di altezza sono sufficienti alla mantide per tutto il suo ciclo vitale. Come in tutte le specie, evitiamo di inserire troppe decorazioni fino all'ultimo stadio, per evitare che intralcino la muta. Non appena le mantidi saranno adulte, però, ci potremo sbizzarrire nell'arredamento. Visto che le Creobroter si cannibalizzano piuttosto spesso, dopo i primi due stadi consiglio di stabularle individualmente. La temperatura ambiente è sufficiente per l'allevamento, ma l'umidità deve essere sempre piuttosto alta, essendo una mantide tropicale. Nebulizziamo almeno una volta al giorno o di sera. Per garantire la giusta ventilazione è d'obbligo la solita copertura in rete. Riguardo l'alimentazione non ci sono particolari problemi, perché questa mantide accetta veramente di tutto. Le prede preferite, in ogni caso, essendo mantidi fiore, sono gli insetti volanti. Ad esempio, le mosche verranno molto gradite. In realtà noi potremo alimentarle con tutti gli insetti delle dimensioni giuste. Io, ad esempio, utilizzo le blatte, che sono molto nutrienti. Vanno evitati come alimento base, tarme della farina e grilli, ma questo, come abbiamo detto, vale per tutte le specie. Per almeno i primi 4 o 5 stadi, le creobroter possono essere nutrite con drosofila idei. Gli esemplari meno timidi cominciano a catturarle già nei primi giorni di vita, ma visto che le L1 sono veramente piccole, consiglio di alimentarle con le melanogaster fino alla prima muta. La riproduzione delle creobroter in cattività è tra le più semplici da ottenere. Basterà attendere un minimo di due settimane dopo l'ultima muta, durante le quali la femmina andrà nutrita a dismisura almeno una volta al giorno. Preferibilmente maschio e femmina in questo periodo di tempo devono essere il più lontani possibile per evitare la suefazione ai feromoni. Passate le due settimane, inseriamo la femmina nel contenitore del maschio, o viceversa. Quasi sempre non ci saranno problemi e la femmina verrà fecondata. Il maschio può essere riaccoppiato dopo qualche giorno, la femmina invece no. Infatti i maschi di questa specie in molti casi ignorano le femmine non più vergini. Quindi provare un secondo accoppiamento e controllare il comportamento dei maschi è un ottimo modo per verificare se la nostra femmina sia stata effettivamente fecondata la prima volta. Se ciò è avvenuto, dopo pochi giorni arriverà la prima oteca. La femmina ne deporrà anche di più di sei o sette, all'incirca ogni due settimane. Le oteche verranno deposte sui rami e sono di forma allungata. Nell'arco dei mese che impiegano per schiudere cambiano colore e diventano sempre più scure. Si possono incubare nebulizzando una volta ogni due o tre giorni e mai direttamente sull'oteca stessa. Ognuna schiuderà dalle 15 alle 50 neanidi, piccole e di colore rosso, che nei primi stadi comunicano tra di loro in modo molto simile a quello delle piccole otomantis, ossia oscillando le zampe secondo un codice preciso. Vi ricordo tuttavia che se sono molto affamate o denutrite, a questa specie di conversazione seguirà comunque il cannibalismo. Alle giuste temperature queste neanidi cresceranno in fretta e raggiungeranno lo stadio adulto in due o tre mesi. Questo ciclo vitale super veloce naturalmente si compierà se le mantidi sono tenute a qualcosa come 28 o 30 gradi. A temperatura ambiente non impiegheranno almeno di 5 o 6 mesi a sviluppare completamente. Si tratta in ogni caso di mantidi veramente poco longeve, visto che la femmina adulta non supera i 5 o 6 mesi e il maschio adulto dopo un mese e mezzo comincia già a mostrare segni di vecchiaia. Quindi la scarsa longevità può essere veramente definita come l'unico difetto di queste mantidi, che sono veramente spettacolari e le consiglio a qualunque allevatore, dal principiante a quello più esperto. Detto questo si conclude la scheda di una delle mie mantidi preferite in assoluto. Se qualcosa non vi è chiaro o avete ulteriori dubbi, scrivetemi nei commenti. Se volete informazioni sulla mia disponibilità di questa specie scrivetemi un messaggio privato su facebook o instagram. Quindi amici, addios, tanti auguri di buone feste a tutti!